Allora ragazzi, oggi vi voglio far vedere come utilizzare questo prodotto per ravvivare e proteggere le plastiche. Ho una macchina molto vecchia, le plastiche sono veramente messe male, quindi è l'ideale per provare questo prodotto. Cosa ci serve? Il prodotto, lo appoggiamo un attimo qui, un applicatore in spugna o microfibra e un panno in microfibra per asciugare. Allora ho messo un pezzo di nastro per farvi vedere meglio la differenza. Spruzziamo il prodotto sull'applicatore e stendiamo il prodotto sulla zona da proteggere. Lasciamo asciugare qualche secondo e passiamo un panno in microfibra. Sto passando il panno dopo 20 secondi ma non è neanche necessario perché si è già asciugata. Guardate che bella la differenza. La cosa fantastica di questo prodotto è che dopo pochi secondi è già asciutto.